Come è noto l'OASI da tempo è centro collaborativo dell'OMS, in particolare per quanto riguarda l'epilessia e negli ultimi anni la collaborazione si sta ampliando alle disabilità intellettive. Il nostro gruppo sta collaborando alla revisione dell'ICD-10 verso la pubblicazione dell'ICD-11. Che cos'è l'ICD-11? Un manuale diagnostico ad uso degli operatori sanitari aiuta verso la definizione diagnostica dei principali disturbi del neurosviluppo. In particolare il nostro gruppo sta revisionando la parte relativa alla disabilità intellettiva avvalendosi dell'expertise su questo tema che l'OASI ha acquisito nel corso degli anni.